Salucci, quali sono stati i problemi che avete riscontrato? Allora, si è verificato un problema all'impianto di riscaldamento che non era possibile riparare senza dover lavorare all'interno delle aule e quindi abbiamo dovuto, d'accordo con il sindaco, chiudere la scuola. Il sindaco ha avuto questa sensibilità di prendere la sua responsabilità e di emanare l'ordinanza perché io come dirigente avrei avuto un po' più di problemi. I tecnici sono già al lavoro lì alla scuola Alberazzurro da ieri in tarda mattinata e pare che almeno uno dei problemi principali sia stato individuato. La possibilità che i tre giorni di chiusura siano sufficienti esiste. Potrebbe, se emergessero delle altre problematiche, eventualmente daremo informazione tra domani e venerdì ai genitori sia attraverso i nostri riferimenti sia di cellulari o di e-mail oppure anche direttamente sul nostro sito. Ma si tratta di un malfunzionamento agli impianti di riscaldamento? Sì, c'è una falla nell'impianto e quindi la caldaia non andava in pressione e non funzionava. Non si poteva per motivi di opportunità tenere aperta la scuola. Poi nel momento in cui i lavori devono essere fatti all'interno diventa anche una questione di sicurezza per i bambini e di salute. E già da domani probabilmente riuscirete a dare qualche informazione anche sul sito? Sì, so per aver parlato con il geometro Battistelli che una parte del problema almeno è già stata avviata a soluzione. Quindi se la questione si risolvesse noi manderemo l'informazione appena possibile. Comunque chiaramente entro venerdì. Nell'eventualità che invece le cose si rivelassero più importanti di quello che sembra emergere in questo momento, allora abbiamo già concordato con la dottoressa Peroni dei servizi educativi di predisporre un piano B che consenta agli alunni di frequentare magari in un'altra struttura statale o comunale in maniera da non prolungare troppo questa interruzione delle elezioni. Grazie a tutti.